se te leni così domenica non giochi ma non abbiamo neanche portiere riserva io conosco tutti nel mondo del calcio chiamo qualcuno visto che conosci tutti chiama buffon donna room anzi chiama spiderman ragazzi oggi in porta va spiderman ma come spiderman mister ma come fa questo quando sono spiderman